Mi spiace molto non essere presente per ragioni di lavoro, ma volevo lo stesso mandare un mio saluto, ringraziare le amiche efficienti come sempre, efficienti, puntuali, con capacità di elaborazione, le amiche della rete dei Coug, e sottolineare alcune delle questioni che secondo me si impongono nel ragionare su rete, reti, contrasto alla violenza, inclusività. Tanto parto da una considerazione scontata ma necessaria, che la rete è indispensabile oggi più che nel passato a fronte delle trasformazioni accelerate di questi mesi, per individuare conflitti nelle forme nuove con cui si manifestano, discriminazioni emergenti, soluzioni all'altezza delle nuove complessità. La rete è indispensabile, le reti trasversali di donne e le relazioni tra reti, non perché banalmente sommandosi si è più forti, non si tratta più di una somma, si tratta di forze, si tratta semplicemente della considerazione altrettanto banale, ma dobbiamo ricordarla quando abbiamo obiettivi anche operativi, che da sole non ce la facciamo, non solo dal punto di vista dei rapporti di forza, ma anche proprio delle logiche, della capacità di interpretazione di ciò che abbiamo di fronte. Ci servono competenze trasversali e in parte competenze nuove che sono da inventare perché da rivisitare l'articolazione dei saperi, i confini tra i saperi, i rapporti tra le discipline. Come pensare che si possa fare un'operazione di questo genere senza l'intelligenza, l'attivazione di reti trasversali, dove la trasversalità, ecco lo ripeto perché voglio chiarire, non si riferisce solo agli orientamenti politici o culturali, ma anche alla ricchezza delle competenze che possiamo mettere in campo. Quindi io sono qui oggi a titolo esclusivamente personale, quindi non come dirigente generale della pubblica amministrazione, ma come copromotrice insieme a Marisa Rodano di Noi Rete Donne, una rete che appunto, vedete, noi non ci qualifichiamo, non aggiungiamo aggettivi, ci chiamiamo semplicemente Noi Rete Donne per dire che ci siamo, una rete alla quale anche Antonella, Oriana e altre amiche fanno riferimento, che è una rete a cui si partecipa individualmente in maniera molto libera per cercare di integrare, e adesso è indispensabile come dicevo all'inizio più che mai, le conoscenze e la capacità operativa di ciascuno di noi. Oggi abbiamo davvero tanto da fare, ma dobbiamo farlo in maniera nuova, cercando di cavalcare il cambiamento, ma consapevoli che non tutti i cambiamenti costituiscono innovazioni, che ci sono anche cambiamenti che possono indurre a regressione. Ecco la complessità del momento è anche in questo, è proprio di questi giorni l'adozione da parte, la presenza della prospettazione da parte del Senato di un disegno di legge che non casualmente coniuga il contrasto alle molestie nel luogo di lavoro con la rivisitazione dei meccanismi di parità e pari opportunità. È crescita anche l'attività nella pubblica amministrazione. Perché l'ho voluto sottolineare? Perché ci porta direttamente al cuore del tema posto alla base della riflessione di oggi, cioè generare inclusività, generare contrasto alla discriminazione, rivisitare i meccanismi esistenti per poter intervenire in maniera efficace, costruire in maniera diversa, orizzontale, reti tra donne. Il disegno di legge è importante e speriamo che si possa presto approvare effettivamente il disegno che mira a rendere operativi contenuti complessi della Convenzione OIL di contrasto alle molestie e alle violenze. È importante perché la centralità delle molestie nel luogo di lavoro, non sta a me ricordarla oggi, ma è evidente, contrastare le molestie vuol dire svelare nel mondo del lavoro, anche pubblico, i rapporti di potere esistenti, le gerarchie e quindi è un tema per noi essenziale. L'aver coniugato con la necessità, questo dice il testo, di rivedere anche i comitati di parità, pari opportunità e riordino l'insieme della materia, ci pone direttamente in campo e ci allerta, ci allerta, non ci allarma, nel senso che è un processo al quale dobbiamo partecipare in maniera attiva e costruttiva, mettendo insieme tutta la capacità delle nostre reti e mettendo in comune tre reti le esperienze e le elaborazioni. Nulla è scontato, dicevo all'inizio, non tutti i cambiamenti sono cambiamenti necessariamente, come dire, portatori di innovazioni positive, le insidie ci sono, noi dobbiamo percorrere le novità dell'oggi, contrastando le insidie e disseminando invece progresso, vitalità, valori nuovi. Sappiamo che è il nostro compito, sappiamo che questo anche nelle amministrazioni pubbliche, consentiteci la presunzione, spetta innanzitutto alle donne farlo e dobbiamo sviluppare una capacità di una lettura di genere più puntuale e che quindi misuri l'impatto di genere di tutte le misure che vengono avanzate. Faccio alcuni esempi per chiarire meglio a cosa mi riferisco con riferimento all'oggi. Per esempio, il rapporto unico che, in base alle disposizioni del ministro Brunetta, che saluto ancora in sala, dovrà sostituire la molteplicità dei rapporti presentati dalle pubbliche amministrazioni, va nella giusta direzione della semplificazione. Ma noi dobbiamo stare attenti perché sappiamo che siamo, come dire, fortemente convinte che la semplificazione deve essere una semplificazione capace di cogliere le diversità e le complessità e che nel rapporto unico non dovrà annegare indistinta la specificità della nostra elaborazione, dell'elaborazione dei Cug, dell'elaborazione sulle azioni positive. Non perché siamo affezionate noi, ma perché poi andiamo direttamente al cuore della nostra Costituzione e agli sviluppi e alle implicazioni dell'articolo 51 che voglio qui richiamare. Così come altri compiti si impongono, a noi piace molto, a me personalmente interessa molto, il meccanismo di premialità previsto per l'utilizzo delle risorse del PNV. Mi pare fondamentale, ma è necessario anche lì aiutare, agevolare una lettura non burocratica che aiuti a mettere insieme tre cose, la corretta utilizzazione delle risorse, la reputazione d'impresa, la condizione delle donne dentro l'impresa, nell'azienda e nella fase di gestione degli appalti perché lo sguardo di donna tra peli esca fuori e per me la realtà tutta. Ecco, sono due degli esempi, altri se ne potrebbero fare. Abbiamo insomma dei compiti nuovi che ci derivano da questo momento straordinario che stiamo vivendo, straordinario per le negatività, la crescita del virus, ma anche straordinario perché ci costringe a ripensare tante cose, ad accettare le sfide e accoglierle. L'attività dei cui è fondamentale in questo senso, se il disegno di legge verrà approvato abbiamo anche lì, ci sono a mio parere delle imprecisioni che spero che in questi giorni se si dovesse approvare, possano essere in qualche maniera riviste, ma insomma comunque anche quella è una straordinaria occasione per ragionare in maniera intrecciata su questi temi. Sapendo che il cambiamento non riguarda solo gli altri, ma deve riguardare anche noi, cioè noi non possiamo partecipare agli eventi, alle iniziative, alle riflessioni come portatrici di un rituale. Noi non facciamo parte del rituale, noi siamo quelle, lo dico, ripeto, non come dirigente della pubblica amministrazione, ma come partecipante a rete di donne, siamo quelle che scardinano i rituali perché generano trasformazione. Ecco, non dobbiamo ripetere le stesse cose, ci stanchiamo anche tra di noi, ma il segreto per non riproporre gli stessi contenuti e non riproporre continuamente anche noi stesse come un rituale è quello di fare rete. Solo la rete arricchisce, consente di uscire dal proprio particolare che forse fino a poco tempo fa, le proprie esperienze, le proprie vicissitudini fino a poco tempo fa in qualche maniera potevano anche annuiare. Adesso rischiano a fronte di tutto quello che sta accadendo di generare inefficacia, quindi cogliamo la sfida, cogliamola tutta, continuiamo a costruire rete e reti e di questo ringrazio Antonella, Oriana e le altre amiche che l'hanno fatto con straordinaria intelligenza negli anni passati e sono certa che lo faranno anche interpretando il bisogno di trasformazione e mirando a obiettivi concreti, lo faranno anche in questa circostanza. Grazie ancora a tutte e a tutti.